ciao a tutti siamo in aeroporto a venezia con elena e jenny siamo arrivati in aeroporto e adesso ci dirigiamo verso il gate e andiamo verso londra salutate ciao siamo in aereo siamo pronte a partire tra poco la lotta rimaneva giù perché la carta di identità sbrigata in due e gli hanno fatto problemi quindi e quindi speriamo che la facciano uscire dall'aeroporto se non siamo stiamo aspettando che la sara ci venga a prendere l'alfredo londinese ma in tutto ciò la sara non io ho l'ancia di vederle ragazze perché per me è mancata c'è da un botto che non c'è e quindi ho l'ancia la voglio vedere ma che è? 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 andiamo qui ce l'abbiamo fatta un giro ok tutto ciò ma l'INGE e allora ragazzi ragazzi siete pronti per vedere l'ona? pronti siamo pronti ok allora tappa la videocamera via tappa Bello! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti